E' a Mendolara, in provincia di Cosenza, uno dei comuni scelti da poste italiane in Calabria per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l'evento, in occasione del quinto centenario della fondazione del convento di San Domenico, sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina. L'iniziativa, è detto in una nota di poste italiane, è parte del programma di impegni per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, promosso dall'amministratore delegato Matteo Delfante ed è coerente con la presenza capillare di poste italiane sul territorio e con l'attenzione che da sempre l'azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tal impegno è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it Il sindaco di Mendolara, Salvatore Antonio Ciminelli, è detto nel comunicato ha espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con poste italiane e avvicina ancora di più l'azienda al territorio seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete al servizio della crescita economica e sociale del Paese.